Oltre 200 ingegneri e architetti della provincia dell'Aquila effettueranno dal 22 ottobre al 30 novembre prossimi sopralluoghi gratuiti e visite tecniche e formative per valutare il rischio sismico degli edifici. Lo prevede Diamoci una Scossa, un'iniziativa promossa da Narcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Protezione Civile, Cruire Lewis. Si potrà prenotare una visita sul sito www.giornataprevenzionesismica.it. Il sistema metterà in collegamento con il tecnico formato per svolgere l'attività, scegliendolo nel raggio chilometrico più vicino. Dopo la prima ispezione sarà redatta una scada tecnica con le caratteristiche dell'edificio, dal punto di vista della vulnerabilità e sicurezza sismica. In seguito al sopralluogo gratuito i professionisti forniranno indicazioni sullo stato di salute della casa e su possibili soluzioni per migliorarlo. La richiesta potrà essere presentata sino al 20 novembre.